ciao a tutti eccomi qui con un nuovo video oggi voglio provare assieme a voi questo preparato per torta della marca san martino senza glutine una torta marmorizzata che mi ha spedito la mia amica angela a cui mando un grandissimissimo bacione ciao cara si sempre gentilissima carinissima che mi mandi sempre queste cosuce nuove particolari quindi io come l'ho visto sono impazzita ho detto lo devo provare subito assolutamente guardate da preparare solo con olio e dice meno 30 per cento di grassi con zucchero a vero ovviamente ma poi è particolarissima non l'avevo mai vista di riaggiungere dice solo tre uova 50 millilitri d'olio e due cucchiai d'acqua e poi qua dietro ci sono tutte le modalità di preparazione ovviamente sono felice anche perché dopo dovrò fare la prova assaggio in diretta assieme a voi quindi lo sapete che io amo gustarmi i dolcetti sono una golosona quindi iniziamo subito allora mi sono preparata già come dice qui la tortiera che ho leggermente oliato la tortiera di 24 centimetri di diametro non ce l'ho col fondo apribile qua dice a cerchio apribile ma io non avendola uso semplicemente questa e con la quale mi trovo bene sempre puoi accendere il forno a 180 gradi se elettrico o 160 gradi se ventilato io ce l'ho a gas quindi farò una via di mezzo lo accenderò a 170 gradi e dice appunto versare in una telina al preparato della busta ok la confezione contiene una bella busta grande e altre due buste altre due bustine più piccole questo sicuramente lo zucchero a velo e questo che è più scuro sarà il cacao da aggiungere dopo ovviamente quindi lo zucchero a velo lo mettiamo da parte il cacao ci servirà dopo quindi forbici versiamo il contenuto in una telina le tre uova poi 50 millilitri d'olio che io ho già pesato in questa tazzina da caffè e i due cucchiai d'acqua uno e due ora attacchiamo lo sbattitore elettrico e dice appunto di mescolare con lo sbattitore alla massima velocità per un minuto sino ad ottenere un composto omogeneo via il minuto dice di versare metà del composto all'interno della tortiera quindi andiamo un po' a occhio dovrebbe essere circa metà così un altro po' magari ok sì e quindi alla metà rimanente andremo ad aggiungere la bustina di cacao mescoliamo sempre con lo sbattitore elettrico per un minuto benissimo ora lo andremo a versare al centro del composto chiaro ok e dice di cuocere per 50 minuti circa se è il forno elettrico 45 minuti circa se è forno ventilato quindi come sempre io dovrò fare una via di mezzo dato che ho il forno a gas comunque io dopo 45 minuti vado a controllare con lo stecchino facendo la prova stecchino appunto poi dice togliere dal forno e fa riposare per 10 minuti poi dopodichè si toglierà dalla tortiera si lascerà raffreddare e si cospellerà di zucchero a velo e poi ci sarà la prova assaggio quindi noi ci vediamo dopo ed ecco qui la nostra tortina adesso io l'ho fatta affreddare l'ho trasferita su un piatto e vi devo dire che l'ho lasciata nel mio forno a gas per un'ora per cui per adesso c'è una cosa che non coincide con le indicazioni che dava qui perché diceva per 50 minuti o 45 minuti invece guardate quanti buchi li ho dovuto fare con lo stecchino per controllare appunto la cottura perché non mi sembrava mai cotta soprattutto al centro quindi adesso non lo so vedremo un po' dopo la prova assaggio durante il taglio vediamo un po' le mie impressioni su come è l'interno sono curiosissima veramente adesso cospargiamo la superficie con la bustina di zucchero a velo che ci hanno dato in dotazione con la scatola e poi ci trasferiamo nell'altra stanza in modo tale da tagliare in diretta e mangiare in diretta eccomi qui pronta pronta per la prova assaggio ormai questa è diventata la sala da assaggio non la sala da pranzo mi ricorda tantissimo il video assaggio e siamo i miei zii è per quello quindi proverò assieme a voi la torta marmorizzata adesso ve la mostro non l'ho con sparsa di zucchero a velo come vi ho già detto ho riscontrato il problemino del forno quindi non sembrava mai cotta e per quello mi sono un po' diciamo spaventata nel senso che ho pensato che magari non che rimanesse cruda al centro e quindi l'ho dovuta lasciare a lungo l'ho dovuta lasciare un'ora ok poi un'altra cosa particolare è che non ha rilasciato molto profumo di torta mentre era in cottura quindi anche per quello mi sono meravigliato una torta deve lasciare il profumo quindi davvero sono veramente curiosissima ragazzi beh il taglio è sofficissimo al taglio risulta sofficissima vediamo un po' vediamo un po' uno due tre ok la vedete prima voi di me beh beh che dire sembra molto molto bella ben lievitata e si beh un'ora nel forno però questa fetta è enorme me ne taglio una fetta più piccolina sembra molto bella ragazzi però ve l'ho detto ha pochissimo profumo e anche pochissimo sapore di torta allora le mie papille gustative sentono che c'è pochissimissimo zucchero non ha stapore di quelle torte di quei preparati per torta no di quelle torte che provengono dai preparati per torta di altri tipi altri tipi ecco altre marche questa è proprio sembra che le manchi qualcosa sembra che le manchi lo zucchero comunque buonina dai secondo me questa è una torta buonissima da inzuppare nel latte perché è mangiata così da sola non ha tanto sapore di torta io ce la vedrei bene anche tagliata al centro è farcita c'è anche da dire un'altra cosa ragazzi che è senza glutine quindi qualche insomma la maggior parte dei prodotti senza glutine che io ho provato anche quelli confezionati vi ricordate le merendine confezionate della marca amo essere quelle dell'Eurospin le avevo trovate un po' diciamo insipide sì non avevano tanto sapore di di zucchero di dolce di tortina buona e quindi penso che sia anche per quello però comunque ovviamente come vi ho già detto ci sono anche delle cose positive quindi l'aspetto è carinissimo perché vi mostro la fetta che ho tagliato l'altra fetta che avevo tagliato guardate che carina è proprio marmorizzata al 100% quello sì poi comunque è molto soffice anche se come vi ho già detto rimane un po' dopo qualche morso rimane un po' qui bloccata qui quindi è una torta che va inzuppata diciamo che per il fatto che io riponevo molte aspettative su questo tipo di dolce per quello sono stata un po' delusa nel senso che appunto io avendo già provato tempo fa se ben ricordate il preparato per torta san martino quindi sempre di questa marca è sempre come dice ah sì gustati la vita vi ricordate avevo già provato quella ai frutti rossi ed era meravigliosa troppo buona mi sembra mi sembra con farina integrale avevo fatto anche il video di quella avevo fatto il video anche di quella e quindi ricordandomi il gusto di quell'altra su questa riponevo molte aspettative è solo per quello però comunque dai è una una tortina buona da prima colazione ok ragazzi adesso vi saluto vi mando un grandissimissimo bacione e vi rimando al prossimo video ciao un saluto anche dal mio bambino il mio topolino bellissimo pollon oh bambino stavo facendo la nannina e la sua mamma l'ha svegliato cosa vuoi adorare cosa eccolo qui pollon guardate come muove la coda che è infastidito pollon adesso torni a fare la nannina saluta ciao